sono alessandro pilati il capo della performance del genoa cricket and football club ho conosciuto for plus nutrition inizialmente online perché faccio uso personalmente questi prodotti poi anche tramite la divulgazione della nostra nutrizionista che spesso utilizza questi prodotti con gli atleti sono circa tre anni che usiamo questi prodotti con un ottimo risultato e siamo contenti perché sono un'ottima integrazione pre e post allenamento come dicevo ci troviamo molto bene sono prodotti di differente utilizzo dalla creatina collagene proteine quindi insomma abbracciano una vasta gamma di integrazione e sicuramente insomma noi ci troviamo alla grande siamo in una fase molto complicata dal punto di vista della fatica però le cose stanno procedendo bene e ci ci presenteremo insomma la prima di campionato nonché alla coppa italia nelle migliori condizioni